Benvenuti su SuperTV, oggi è il 3 dicembre 2018, incominciamo un nuovo mese, lo iniziamo con il front squat, dovremo costruire due heavy set, due ripetizioni l'uno. A seguire un classico, Jackie, ovvero 4 time, 1000 metri raw, 50 thruster e 30 pull up. Pesi, carichi e scalature come al solito sulla grafica di fianco. Ci vediamo su Instagram per quanto riguarda gli scaldamenti e lo svolgimento della classe e naturalmente domani con un nuovo VOD. Ciao!